Attacca, bastia! Mi inquadro? Si Ah, ho dei papparocci qua Eh, però mi sa che ti vedo pure a te, devi nascondere Eh, eh, ancora ti trovo qui No, te l'hai scoperto Queste sono due note diverse No, non posso arrivare qua? Si vede Dani? Si Ok, Dani metti in posizione Hai capito che sono due note diverse? Si, la metti in posizione È la stessa nota Ma tu già stai facendo? Eh, già stai facendo le proche No, no, no Eh, pure... Bravissimo Eh, pure un po' più Eh, assorso, hai spesso questa cosa? Non capisco, no? No, vabbè, ma che cazzo ci serve questo tic-toc-toc? Serve, serve Fide Adesso a tempo questo video di No We Are Done Adesso è tutto perfetto Che ci dobbiamo coordinare Nel senso che io quando alzo la destra Tu devi alzare e cantare E perchè non riesco a un metronimo? E quanti scatti devi fare? Tu m'alzo allo ti-to-to-to-ti-to-to-to-pa Ok, troviamoci Are you the prey? No, we are the hunter Non sa' ciò che faccia il giocato E faccia il giocato che io non rideva, che è una merda E tu qua, mi dai la mano Vai Eee, dove? Are you the... Eh, buono cazzo Eeeh Eeeh Dai Dani Dove? Canta Cosa? e dai quindi come la vuoi fare? eh? e tu? io ma ci passano se non sei merito e svei basta ti sei andato pure tu quando dici we roll non solo we roll one heart we roll one soul e dai ma ciao hai io e ora io e ora te vede ti voglio che cosa? ho fatto un po' di più ieri sono i casi ieri 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 la musica? no anzi troppo è un cazzo esce fuori tempissimo ma che ci vuole a fare? vai io vai io vai io non mi torna a fare non mi ha piaciuto c'hai una differenza di statura micidiale ho capito questo è ammazzamento mette da feco purtroppo sei umano se no facciamo due pezzi che poi li monto insieme cioè a metà l'italiano e poi quello sicuramente sul focus esce meglio e lo facciamo a due pezzi ora fatti la ripresa lui quando vuoi quello no cazzo per finire l'anguria per finire l'anguria ehi per finire l'anguria per finire l'anguria per finire l'anguria per finire l'anguria non mi mangio una arpa che ci dà per finire l'anguria per finire l'anguria canta a finire l'anguria cazzo canta a cazzo eh sei arrivato sei cotto ma cazzo c'è Un po' di sguardo cattivo, rimane giù, rimane giù, rimane giù, va bene, va bene, va bene. Scusate, questa parte è stop. Ok. Questo è quello più avanti, vero, che va girato su questo? Scusate, sono un po' di vento d'altro. Cominiamo. Vai Dio. Ma stai diventando, non facci il muoio. Muove, muove! Oddio, quando ha fatto così, sembrava molto Richard Benson. Mancavano gli occhiali. Vai, e quindi devo solo seguire lui, Alessio, e poi guarda. Sì, segui Alessio, fai quel cazzo voi, fai quello che vuoi. Non mi direi fai quello che vuoi che poi ti lamenti. Allora, vuoi spostati. Scusi, mi febrisci del badà. Ah, è che cazzo, vabbè, 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 vabbè. Era quasi buona, ultimo secondo, rifacciamo la uguale, facciamo la uguale, vai. Guarda una botta. Ah, ma da macchina, lo stai facendo? Eh, vai, vai, mangia il pane. Sto mangiando, dico. Non ti fa spazio in mucca, purtroppo. Ma tu è possibile, quando uno registra devi sempre parlare. No, adesso un drappo da mettere sopra la macchina. Scusi, sir, watermelon? Sì, abbiamo. Watermelon. Un melone. Un melone. Un bacchissimo. Watermelon, ma cosa porta sto melone. Watermelon, watermelon. Però, 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 una cosa ogni tanto, una, però non sai parlare. Cioè, watermelon. Che vuole, no? Porto sto melone a mia. Buttala sotto la tavola, sotto la tavola. Qui c'è del bacino qua sotto, mi metto un po', mi fermo, del bacino qua e ti vedo. Uno, due, tre, sei somma, se vuoi mettere l'altro, se vuoi candidato, si furge senza partare. Magari per il secondo ci partano, mi ingagnesco. 10, due, uno, due, tre. Questa è. Due. È troppo lento, troppo lento. Tre. L'ho sentito. Ah, non viene. Allora, hai visto che è stato con la giacca? Pff. Sembra che c'è quattro braccia, guarda che impressione. Ok. Uno, due, tre. Cos'è stato con l'esplosivo? Ma piaccia. Cos'è accaduto? Quale piaccia? Quanto è il culo suo? Ma come? Che cazzo è successo? Tutto questo è passibile, come siete morti? Cioè, è fantastico. Io amo l'esplosivo. Ma io per l'altro non mi stirrano il cammino piano. Ah, non mi fa fare l'ora. Oh, non mi fa fare l'ora. Oh, non mi fa fare l'ora. Fai il voto fino a poco. Vabbè, la volta che mi è vero. Questo di là, io mi voto mani e lo rompimmo, lo diraniamo, se ci riuscimmo. Ci riuscimmo? O riuscimmo a rompere? Sì, io riuscimmo. Tu dici? Tu dici o riuscimmo a rompere? Questa è stata? Quanto è la seconda datora? Ma io ho tutto il tempo che voglio niente. Eh, beh. Uno, due, tre. Ah, ma basta. Basta, basta. Basta, no. Vai, di faccia, di cattiveria. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Poi non l'hai visto da vivo? Ah, basta. Ma che faccio. No, tu non l'hai visto. Ma cosa hai parlato? Ah, 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 ah. Aiuto. Continuiamo? Guardate qui! Ma che cosa è? Ma chi è? Questo è il momento che ho fatto! Ma non mi ha 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 fatto! Signore, aiutate! Aiuto! Ma distrugge! Andiamo! Guarda che ora dobbiamo dare il naglio di noi! L'abbiamo già dato! E per me finalmente! Sto baviando il mondo! Non voglio scuta per terra! Io il conatti di Giorgio! Tu! Tu! Guarda che buona ragazzo! E la voleva infilare pure nel gesso! Guarda finita qua! Fino andiamo adesso! Passa qua! Ma io ho fatto la mia spazio! Perché Alessio tocca quella roba lì? Eheh! Andiamo a te! No, io vedo il bologno! Ahahahah! Io ho premio Oscar! L'attore non protagonista ma proprio tutta la vita! E noi facciamo schifo acqua! Non ha fatto, come l'ho detto io, impassibile, cioè è proprio un ruolo suo, io mi faccio un merda. Scappa, scappa. Ti giuro, io non l'avrei mai detto, non ci avrei mai dato due spicci, sei un attore, ti giuro, guarda, ma c'è un'espressività che va più adattere. Quando stiamo a fare il maggiordomo dei film piccoli d'ordine? Ma il cinema è un altro per usare, il cinema è un nostro piccolo d'ordine. Non ne ha avuto abbastanza, l'uomo? Ci si fa dei pitt, non so. Non è commentabile, è il vero positivo. Ah, ok, grazie. Non puoi capire, ho avuto a comunicazione che io, l'ho visto. A parte, grazie. Fantastico, dai! Io pensavo che... Io 4 e 4. Ciao, bene! 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 Grazie a tutti.